Siamo ancora una volta riuniti, grazie all'iniziativa di Remind e del suo Presidente Paolo Crisafi, per parlare di un tema quanto mai attuale nel momento abbastanza critico che stiamo vivendo, quello della felicità. È una necessità, credo, forte quella di ricercare non solo un benessere economico e uno sviluppo anche tecnologico al servizio della nazione e delle imprese. Ma con questa attenzione alla felicità io credo che Remind ricerchi una visione integrale dell'uomo, una visione totale della persona, intesa non solo come professionista, lavoratore, ma anche e soprattutto come persona completa, con i suoi sentimenti, la sua emotività, la sua ricerca di un benessere e di un equilibrio psicologico. Quindi un appuntamento di grande importanza a questo di oggi per confrontarci con una visione integrale dell'uomo e delle sue aspirazioni. perché crediamo in uno sviluppo globale della persona che tenga conto non solo delle sue capacità tecniche, ma anche della sua umanità, dei suoi sentimenti e della sua felicità.